ragazzi stavolta mi trovate a cucinare invece che a mangiare allora faccio un'asta un'asta e cerco praticamente carte insetto in sector cerco praticamente due ornette un giga mantis e una libellula e ovviamente chi mi dà queste carte si può portare a casa praticamente questo un coniglio da soccorso fatemi sapere buona sta il migliore si aggiudica tutto al coniglio lo vendo a 90 euro se qualcuno è interessato a comprare cash ma più che bene scrivete tutto arrivederci a tutti